Sono state oltre 20.000 le domande di contributo presentate per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma 2016 nel centro Italia. Riguardano 52.000 unità immobiliari di tipo residenziale e 1.150 immobili produttivi. L'importo richiesto dai cittadini è di 5,4 miliardi. Le richieste approvate, oltre 10.000, sono cresciute molto velocemente nell'ultimo anno e in particolare nei primi sei mesi del 2021. In questo periodo sono state approvate 3.300 richieste di contributo e completati oltre 1.100 cantieri. Dall'avvio della ricostruzione sono stati ultimati 5.000 interventi su edifici con 12.000 unità residenziali completate e in corso i lavori in altri 5.000 cantieri per 13.000 ulteriori abitazioni. L'Europa cresce ancora, ma meno di prima per via della variante Delta. All'agosto, infatti, l'indice PMI elaborato da IHS Market, che misura le aspettative delle imprese, è sceso da 60,2 punti, che rappresentavano il record degli ultimi 15 anni, a 59,5. È lo stesso livello di giugno, che realizzava comunque il secondo miglior risultato da 2006. All'inizio dell'estate a crescere era stata soprattutto l'industria manifatturiera, sfruttando lo slancio delle riaperture. Ad agosto è toccato ai servizi, dove la ripresa però è stata più cauta. Il solo indice della manifattura è sceso ad agosto a 61,5 punti dai 62,8 precedenti. L'indice dei servizi è rimasto sostanzialmente stabile. Nel 2020 l'industria del turismo ha risentito in maniera profonda della pandemia. Il numero di notti trascorse negli esercizi ricettivi dell'Unione Europea è diminuito del 52% rispetto all'anno precedente, lo rivela Eurostat. Quasi assenti i flussi turistici in primavera, la distribuzione si è spostata verso i mesi estivi con l'allentamento delle restrizioni. Luglio e agosto hanno rappresentato il 42% di tutte le notti trascorse in strutture ricettive nel 2020, in netto aumento rispetto al 32% dell'anno precedente. Meno pronunciato rispetto al drammatico calo primaverile l'impatto del Covid nell'autunno scorso. Da ottobre a dicembre la quota dei vacanzieri è passata dal 20% del 2019 al 13% del 2020. In Italia le aziende che hanno voglia di innovare hanno un'ottima opportunità attraverso il credito d'imposta. Esiste quello transizione 4.0 che concede loro il 50% di quanto speso per acquisto di macchinari nuovi ed impianti nuovi, ma non solo. Se trattasi di macchinari normali o impianti normali c'è il 10%. In aggiunta le aziende del sud possono soffrire del credito d'imposta sud 45%, quindi è un'ottima opportunità per le aziende di tutto il territorio nazionale, ma in modo particolare per le aziende del sud. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.